Luna piena in toro con eclissi di luna. Cosa accadrà in questi giorni? Ciao stelline e stellini, sono Ivana, ma a banda le ciance e ciance le bande iniziamo. Questa luna piena in toro ci porterà a buttare via tutto ciò che ci blocca del passato. Ebbene sì, stelline e stellini, se ci sono situazioni che non riescono a giungere al termine, questo è il momento giusto per dire stop. Anche se non lo farete con la mente, le stelle vi aiuteranno a terminare tutto ciò che vi sta bloccando. Avete presente quelle relazioni che sono lì, che si trascinano per tanto tempo? Sapete che devono arrivare al termine ma non riuscite a farlo? Bene, ci penseranno le stelle perché vi faranno proprio avere la voglia di andare avanti, andare oltre e cambiare. Perché è arrivato il momento di liberarci da queste catene che ci bloccano per andare avanti verso un futuro migliore. Ci saranno delle energie potentissime unite dall'eclissi lunare e dalla luna piena in toro. Cosa succederà dentro di noi? Potreste sentirvi un tantino tristi, presi da tanti pensieri. È tutto normale, cercate di deviare a praticando attività sportive o sensoriali. Perché è una luna piena in toro, quindi quello che dobbiamo andare a stimolare sono tutti i nostri sensi, che può essere l'olfatto, il gusto, il tatto, per far sì che la nostra mente non pensi troppo. Questo è il momento per tagliarsi i capelli, per farsi dei cambi look esagerati, per rimodernare la casa, per fare tutto ciò che è cambiamento. La luna piena naturalmente tocca tutti i segni, però quelli più influenzati da questa luna sono scorpione, vergine, leone e naturalmente il toro. Quindi, ricapitolando, date vita al vostro glow up, cambiate tutto, che sia l'aspetto, che sia il vostro ambiente lavorativo o dove vivete, perché è il momento giusto per dare un change. Inoltre, chiudiamo con le vecchie relazioni, buttiamo via tutto ciò che è stagnante per dare spazio alle novità. Cambiate gruppo, comitiva, abitudini, perché questa è la luna del cambiamento ed è una delle più potenti, perché si unisce alle crisi. Fatemi sapere come sta andando questa luna piena che inizierà oggi alle ore 8 e vi potrò dare delle risposte e degli aiutini extra nei commenti. Grazie. Grazie a tutti.